Ciao a tutti e tutte, ritornata la settimana americana da Lidl, io ho preso questo yogurtino da assaggiare con cronberry e chocolate sprinklers. Praticamente è uno yogurt con cronberry, che non so che frutto sia, sono questi frutti rossi comunque, e piccoli pezzi di cioccolato. Mia madre dice che sono ribes, ma non sono ribes, è un altro tipo di frutto che hanno là in America. E apriamolo per vedere come è all'interno, questo è un bivessaggio ovviamente. Allora, sembra uno yogurt così, senza usarlo, solo guardando, sembra uno yogurt tra mirtillo, perché vedete, ha questa, c'è anche pure questo. È uno yogurt di questa colorazione rosa, con, vedete, i pezzi di cronberry che sono... Ok, mi è già stato detto dalla regia che sta di cioccolato acido, io non ho ancora assaggiato. Comunque questi devono essere i pezzi di cioccolato, questi qua scuri che vedete. L'assaggio è un yogurt denso. E' buono, guardate, c'è pezzettini di cioccolato, vedete, è rosa, e sì, a qualcuno potrebbe piacere, però è un po' acido, non è molto dolce. Ci sentono i pezzettini della frutta e di retro? Si sentono i pezzettini del cioccolato. Alla seconda bocconata è meno acido. Mi dicono dalla regia che la seconda bocconata è meno acido. Il video assaggio è finito, questo era lo yogurt assaggiato. La mia votazione, credo che sì, è buona, si potrebbe ricomprare, ma non è tra i miei yogurt preferiti. Ciao, alla prossima e al prossimo video. Mangia! A te!